Gentili telespettatori, buona giornata. Ilaria Salis in tribunale, senza catene, senza nulla. Il giudice però rivela il suo domicilio, l'ira del padre. Lei dice voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato, arrivata in taxi in tribunale insieme con i genitori. L'ambasciatore italiano chiede provvedimenti di sicurezza dopo la divulgazione dell'indirizzo dei domiciliari. Il processo viene aggiornato al 6 settembre, quando ovviamente lei sarà già stata eletta come eurodeputata. Ormai tutti i sondaggi danno AVS sopra il 4%, mentre Italo Bocchino, il difensore del centrodestra televisivo, andava in giro per le trasmissioni a dire che Ilaria Salis in nessun sondaggio era sopra il 4%. Quindi questa è la terza udienza del processo in cui è imputata Ilaria Salis. Per la prima volta compare in udienza senza catene, guinzagli e cose del genere, ma solo con la cavigliera del braccialetto elettronico che da 24 ore la controlla agli arresti domiciliari dicendo che le dà fastidio questa cavigliera. Quindi è arrivata in taxi, accompagnata dal padre e da una sorta di scorta civica dei rappresentanti di Alleanza Verdi-Sinistra, la lista che l'ha candidata alle elezioni guidata dal deputato Marco Grimaldi. Oggi dice non voglio e non posso fare dichiarazioni, c'è il processo, dice la Salis entrando in tribunale e poi seduta sulla panca degli imputati in attesa del giudice e dell'inizio del dibattimento. Dice voglio solo ringraziare tutti dopo aver specificato di non essere riuscita a dormire nella prima notte trascorsa fuori da una cella dopo oltre 15 mesi di carcerazione preventiva. Nel corso dell'udienza è stata interrogata la vittima della prima aggressione contestata a lei, Zoltan Tot, che ha raccontato di aver subito l'agguato all'uscita di un ufficio postale vicino al suo posto di lavoro, probabilmente a causa dell'abbigliamento militare che indossava, ma non era un neonazi che andava alla manifestazione neonazi, ma era uno che era andato alla posta e aveva solo su un giubbottino stile militare. Guardate, io in camera nell'armadio ho un giubbotto che è il giubbotto dei piloti di elicotteri, proprio quello originale che ho comprato in un museo a Piana delle Orme, alla fine del museo c'è un negozio dove vendeva ormai dei giubbotti che sono stati dismessi, nuovi ma dismessi dalle forze armate, avevo comprato questo giubbotto, ogni tanto l'ho messo, se passavo di lì per caso con questo giubbotto io per loro ero neonazi per esempio, ho altri giubbotti militari, c'è uno con tutto maculato che sembrano una mimetica, un giubbotto di mimetica, questo in questo caso è completamente falso, non è vero, ho dei giubbottini così, un altro giubbotto da pilota di bombardieri del 1940, insomma se io andavo da quelle parti lì, passavo con un giubbotto del genere ero automaticamente un neonazi, però andiamo avanti, è stato poi questo signore picchiato con manganellate calci in testa, all'addome da un gruppo di persone mascherate che dopo un po' hanno smesso tutti insieme e sono scappate, Totta ha riconosciuto l'imputata italiana presente in aula aggiungendo di non poter riconoscere nessuno perché gli aggressori erano tutti travisati e perché era sotto shock, quindi ha riconosciuto la Salis ma non ha potuto riconoscere nessuno perché erano incappucciati, allora come ha fatto a riconoscere la Salis? No dico così, dice questo signore ha riconosciuto l'imputata italiana aggiungendo di non poter riconoscere nessuno, e? Boh, andiamo avanti, le ferite riportate sono state medicate e ha lamentato di aver continuato ad avere dolori per via di tre costole incrinate come risulta da neoradiografia, questo non gli ha però impedito dopo circa un mese di riprendere ad andare in bicicletta e a tirare con l'arco, particolari messi in evidenta dagli avvocati ungheresi di Salis per dimostrare che le ferite procurate non erano potenzialmente letali come invece ritiene l'accusa che prevede una pena molto alta fino a 24 anni di carcere. Dai filmati proiettati in aula si vede anche l'aggredito rialzarsi da sé subito dopo, prima della sua testimonianza c'è stato un po' di sconcerto in aula quando il giudice leggendo un verbale ha svelato l'indirizzo dell'appartamento di Budapest dove da ieri l'aria Salis sta scontando i domiciliari, dopo le proteste degli avvocati difensori il giudice ha invitato i presenti a non rivelarlo e l'ha fatto cancellare dal verbale d'udienza, inoltre l'ambasciatore italiano gli ha inviato una nota diplomatica al ministero degli esteri ungherese perché il governo di Budapest valuti adotti i necessari provvedimenti di sicurezza dopo la divulgazione dell'indirizzo dei domiciliari. Dopo l'ascolto di due testimoni il processo è stato aggiornato il 6 settembre ma prima di quella data ci saranno le elezioni europee che se l'aria dovesse diventare deputata al Parlamento di Strasburgo aprirebbero la partita dell'immunità e dell'eventuale autorizzazione a procedere ma con lei già fuori dall'Ungheria e io immagino probabilmente che una volta fuori dall'Ungheria non ci metterà mai più piede insomma voi cosa fareste andreste lì a farvi processare vi danno 24 anni qui sembra un altro processo senza prove come quello di Chico Forti condannato all'ergastolo senza prove qua ci sono dei testimoni che non possono riconoscere nessuno perché gli aggressori erano incappucciati ecco grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che poi c'è tele italia seconda rete con video come questi che poi vengono condivisi su linkedin x facebook triads grazie nuovamente e arrivederci a presto ciao ciao Grazie.